È il momento delle feste, da qualsiasi parte si festeggia, ormai siamo vicinissimi al Natale, anche ieri sera, ad esempio, la clubhouse dello stadio, Orge Stadium, Dino Manuzzi, ha ospitato l'incontro per gli auguri fra il Cesena, gli sponsor e tutto quel piccolo mondo che gravita intorno alla società di calcio. Il momento degli auguri, il momento dei festeggiamenti, senza dimenticare però che la situazione della Cesena è una situazione molto, ma molto precaria e molto, ma molto difficile. Sto parlando della squadra, la società ha dato un segnale molto chiaro, ha pagato tutti gli stipendi ben tre giorni prima del fatidico 16 di dicembre, quello delle scadenze dei pagamenti per non incorrere eventualmente nelle penalizzazioni che arrivano, è ovvio, quando non si è in regola con la contabilità. Ma, dicevo, le feste e questo momento è anche il momento nel quale si comincia a parlare di mercato. E allora il Cesena, che si sappia bene, ha bisogno di fare mercato, ha bisogno di vendere, i più papabili per il momento sembrano Ciano e Diuric. Ciano ha una richiesta ufficiale, è quella del Benevento, che è pronto a mettere soldi cash lì ed è probabile che se ne vada.